Abbiamo fatto la scritta, dobbiamo andarla ad attaccare, quindi cosa facciamo? Ci prendiamo un pochino di acqua o di colla alimentare e con un pennellino andiamo a mettere l'acqua o la colla, quello che avete scelto di utilizzare, sulla pasta di zucchero fucsia. A questo punto prendiamo la nostra prima L e la andiamo a posizionare, mi raccomando cercate di posizionarla il più dritto possibile, forse era il caso prima di posizionarla e poi di metterci la colla, ma sono quei particolari un po' irrilevanti. Ok, quindi mettiamo la nostra L, ripeto, il più dritto possibile, la O, quindi facciamo il contrario adesso, la O, prima la posizioniamo, ok? E poi la andiamo a incollare, vedete come io sto lavorando, toccando tranquillamente le lettere senza che i puas si rovinino, ok? Perché, come vi dicevo, la ghiaccia si è asciugata e quindi non corro il rischio di rovinare il mio lavoro. Stessa cosa con la seconda L, quindi la prendiamo, la posizioniamo meglio che possiamo e mettiamo ancora un po' di acqua o di colla, ripeto, come vi viene meglio. E questa parte l'abbiamo fatta. Adesso che cosa facciamo? Ci prendiamo la tempera alimentare nera, ok? E andiamo con il nostro pennellino, andiamo a ripassare tutto il bordo, semplicemente, ok? In questo modo, andiamo intorno alle lettere, per prima cosa, girare. Se vi avanza della pasta rosa, come nel caso della O in alto, non vi preoccupate, nel senso che al massimo lo andiamo a ritagliare successivamente, ok? Ok? Certo, cerchiamo di scendere il più preciso possibile. Uno, due, e così. L'alternativa poteva essere quella di fare anche uno strato nero, ma io non ve lo consiglio per il semplice motivo che poi viene veramente molto spessa, cioè tre strati di pasta, o sono molto sottili, ma con questo, col caldo adesso che arriva, non, non, diventa poi difficile alzarli, gestirli, ok? Ok? Anche con le tempere direi che se non avete i miei problemi di tremore, dovreste tranquillamente cavarvela. Quindi così, ok? Ancora qua, un attimo. Ciao Paola, buongiorno. Quindi, ok. Direi che lo abbiamo fatto tutto, ci manca ancora il pallino qua dalla O. Ok, e basta. Fatto questo, ah no, l'interno, non me lo dite, l'interno della O manca ancora. Quindi, e con un pennellino invece fine, facciamo così, facciamo i puntini all'interno. Quindi, uno, due, ok. Sempre con la tempera bianca, volendo, sotto, potete andare a scrivere, ad esempio, il nome della festeggiata, che si presume, ora io ho dato per scontato che sia una bimba, ma è chiaro che se parliamo di LOL, difficilmente stiamo parlando di un maschietto. Quindi, venendo a noi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato la scritta LOL Surprise, ok? Da mettere sopra una torta. Che cosa abbiamo utilizzato? Che cosa è necessario per creare la scritta LOL Surprise, come abbiamo fatto insieme? Della pasta di zucchero, ovviamente, color magenta. Della pasta di zucchero bianca, sulla quale abbiamo passato il nostro Bistencil con ghiaccia reale colorata di nero. Dopodiché abbiamo rifinito i bordi con la tempera nera e fatto i puntini con la tempera bianca. La scritta non abbiamo fatto altro che scaricarla, diciamo così, da internet e ripassarla su un foglio di carta da forno. Io direi che abbiamo finito, vi giro, così vi saluto. Ok, eccoci qua. Che dite, vi è piaciuto anche oggi? Secondo me è stato molto carino, un modo sicuramente veloce e semplice per ottenere la scritta con dei poids perfetti. Perché ovviamente la caratteristica sono questi poids perfetti. Capisco che farli a mano sia, a parte sicuramente più complicato, ma anche molto più lungo e laborioso. Io vi ricordo ovviamente che tutti i nostri Bistencil, i painting e la ghiaccia reale la trovate sul nostro sito www.bimagenta.it. Vi ricordo che le spedizioni sono gratuite per ordini superiori ai 39 euro, quindi mi raccomando approfittatene. Sul nostro canale YouTube dovremmo aver già pubblicato il video di oggi, quindi mi raccomando iscrivetevi, pollicione in su se i video vi sono piaciuti e condividete. Grazie Lucia, sono contenta che ti sia piaciuto. Se avete richieste, mi raccomando, scrivetemi. Io sarò ben contenta di soddisfare le vostre necessità. Per qualunque cosa, corsi online, workshop, corsi personalizzati o quant'altro, io sono a vostra totale e assoluta disposizione. Vi saluto domani. Un abbraccione, baci baci a tutti. Ciao! Ciao!